34 anni dopo l'assassinio dell'allora presidente del Burkina Faso, Thomas Sankara, trucidato insieme a 12 suoi compagni durante un colpo di Stato, è stato condannato ad Ergastolo l'ex presidente Blaise Kompahore. Kompahore, che dopo l'omicidio Sankara rimase al potere per 27 anni, dal 2014, in seguito ad una sollevazione popolare, vive in esilio in costa d'Avorio. Insieme a lui, condannati all'Ergastolo anche il capo della guardia presidenziale e uno dei capi militari dell'epoca. Il colpo di Stato venne condotto proprio da Kompahore, che fino a quel momento era il più stretto collaboratore di Sankara. La sollevazione militare mise fine a un governo rivoluzionario che si batteva per la cancellazione del debito estero dei paesi africani, considerandolo uno strumento neocoloniale per il dominio degli stati appena divenuti indipendenti. L'esperienza di Sankara, durata quattro anni, da subito sollevò le reazioni negative dei paesi occidentali, Stati Uniti e Francia in testa. Quest'ultimo paese, nonostante un'esplicita promessa in tal senso del presidente Macron, non ha ancora reso accessibili molti documenti relativi all'uccisione di Sankara e attualmente coperti dal segreto della difesa nazionale.